Il fuoco dell'artiglieria russa non si ferma e a Kiev scatta di nuovo il coprifuoco in vigore dalle 20 di oggi, 15 marzo, sino alle 7 del mattino di giovedì 17. La misura prevede il divieto di circolazione per la città senza permessi speciali. Si potrà uscire solo per raggiungere i rifugi in caso di allarme. Riprese intanto le consultazioni in videoconferenza fra le delegazioni dell'Ucraina e della Russia, sul tavolo restano cessate il fuoco e il ritiro delle truppe dal territorio del paese. Il presidente ucraino Zelensky, in videocollegamento da Kiev con il leader dei paesi nordici radunati a Londra, fa appello agli alleati europei perché forniscano più armi alla resistenza ucraina.